Non sarà un episodio isolato, come abbiamo detto, peraltro fa seguo di altri interventi che abbiamo fatto, qui c'è stato un impegno personale anche del Presidente Menoni, che ringrazio per l'incoraggiamento che ci ha dato, i primi esiti danno il senso, la proficovalenza di quello che abbiamo fatto e ripeteremo ancora, perché stanno crescendo le periferie non solo in senso fisico, ma anche periferie della nostra società e noi ce ne faremo calco, almeno per quello che riguarda la sicurezza, ce ne faremo calci che saremo presentati. Non solo questa periferia quindi? No, non solo lì, non solo questa periferia del Napoletano, della Campania, non solo al sud, ma in tutte le periferie. Io in animo, io sto ai prefetti di fare una ricognizione di tutte le situazioni analoghe che ci sono sul territorio nazionale, quindi inaugureremo una stagione di continuità estesa un po'. Con blitz di questo tipo anche in altre periferie? Comprendo la semplificazione giornalistica, si tratta di operazioni che hanno un'articolazione interforse, che hanno una loro simbile imponenza raccordate con l'autorità giudiziaria perché devono avere una capacità di penetrazione molto importante, perché le modalità sono che hanno un'articolazione raccordate con l'autorità giudiziaria. Grazie.